Sull'episodio di gravissima violenza venerdì notte davanti alla Usonia, dove un ragazzo di 36 anni è stato aggredito da quattro stranieri ancora non identificati e di precedenti episodi in Via del Toro, Viale 20 Settembre ai Topolini, interviene il pugile Fabio Tujak, già promotore un mese fa dell'iniziativa Riprendiamoci Barcola. Mi sono svegliato con mia moglie che ha letto il giornale e piangeva perché questa ragazza è un suo amico di infanzia, bisogna fare qualcosa, sono molto preoccupato quando andavo io in giro una decina di anni fa, perché ormai sono diventato papà, non si vede tanto in giro, se no a lavoro, palestra e casa, non c'erano questi episodi qua bisogna arginare in tempo il problema, qua è sempre peggio, è sempre più pericoloso. Episodi peraltro di vera e propria violenza gratuita commessi sempre e comunque da stranieri. Sembra che sono stranieri, se lo dico posso passare per un razzista, ma questo è un dato di fatto, è che questi vigliacchi qua non se li apprendano con gente come me, è ovvio se li apprendono in quattro con un ragazzo più debole, così perché a me non serve mai successo perché hanno paura, ma ovvio che non si può io non alzo un dito fuori dal ring, perché lo so che non posso, così, quello che mi ha anche dato fastidio, che magari non so chi c'era là, se butta fuori, chi che poteva fare qualcosa, non ha fatto niente, come ti fai a non buttare in mezzo? L'onorevole Fedriga ieri ha proposto addirittura di creare una sorta di ronde notturne, si può pensare a fare un'operazione come quella riprendiamoci Topolini, riprendiamoci Barcola che hai promosso un mese fa, diventi addirittura riprendiamoci Trieste? Per me è un'ottima iniziativa, un segnale che non ci stiamo a subire le prepotenze, siamo noi cittadini per primi che dobbiamo agire nella legalità per far sì che Trieste torni tranquilla, torni in una città per poter far crescere i nostri figli sereni, in pace, se no è un casino.